Il reparto di giratria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara è ormai al collasso. La denuncia arriva dall'ordine delle professioni infermieristiche di Pescara attraverso la presidente Irene Rossini, che esprime la propria amarezza e sconforto di fronte all'ennesima denuncia. Le condizioni in cui versano gli anziani pazienti ledono ancora di più la dignità della persona in quanto colpita maggiormente nella sua fragilità, rimarca la Rossini, una situazione che non è più accettabile. A fronte di 46 posti letto e 9 di lunga odegenza, su due unità operative i pazienti da assistere sono costantemente oltre 64, con punte che superano gli 80. A giratria attualmente sono ricoverati 72 pazienti, con un tasso di occupazione media dei posti letto pare al 130%. Il personale, aggiunge ancora la presidente dell'Opi, Irene Rossini, è calibrato per assistere ai posti letto dichiarati e non quelli in esubero. Questo crea notevoli difficoltà, esponendo a rischio non solo la sicurezza delle cure, ma anche quella degli operatori. Le criticità, è stato fatto notare ancora, aumentano durante i turni notturni, quando sono presenti soltanto due infermieri per turno per circa 38 pazienti, con accettazione e ricoveri e la completa assenza di personale socio-sanitario. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche rivolge pertanto un appello all'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha già visitato il reparto e valutato tutte le varie problematiche, e a tutti gli organi politici, compreso il sindaco di Pescara Carlo Masci, affinché intervengano al più presto per adeguare la dotazione organica del personale infermieristico e di supporto, migliorare e potenziare setting assistenziali e le risorse tecnologiche, al fine di ridare dignità e rispetto alla nostra popolazione anziana.